Tre giorni di follia, tre giorni di accoltellamenti, risse e rapine. Napoli, come sottolineato dal procuratore Riello, è nella morsa delle baby gang che da mesi, in molti casi impunemente, creano il panico tra le strade e le piazze cittadine. La guerra degli sguardi la notte tra sabato e domenica ha generato ben tre feriti tra giovanissimi. La prima aggressione in via Enrico De Marinis, nel quartiere Porto, per un'aggressione a un minorenne. Un quattordicenne, mentre era in compagnia di altri amici, è stato aggredito da altri giovani suoi coetanei che lo colpivano con calci e pugni. Il motivo dell'aggressione? Uno sguardo di troppo. Altra rissa, altri feriti in via San Carlo, dove i carabinieri sono intervenuti per un'altra aggressione ai danni di due minorenni. Ieri sera, invece, altro ferimento in via Foria, dove un quattordicenne viene fermato dal branco con l'uso di un manganello e è stato mandato all'ospedale. Gli viene giudicato guaribile un trauma cranico, in dieci giorni. E ieri sera a Bagnoli, un 17enne, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione dopo un tentativo di rapina finito male. Il ragazzino, con in pugno una pistola giocattolo accompagnato da altri complici ancora non identificati, aveva provato a farsi consegnare l'incasso della serata. Il pizzaiolo, capito che l'arma era finta, lo ha bloccato e consegnato alla giustizia. E in queste ore sono divenuti virali sui social due video. Nel primo, due studentesse di Portici se la danno di santa ragione. Al centro della rissa forse un ragazzino conteso. Nel secondo, invece, la violenza arriva anche nel mondo del calcio a cinque. Anno c'era inferiore, dove si svolgeva il derby tra San Giuseppe e Napoli Fustal, vinto dagli azzurri per 2 a 1 nel post-gara mega rissa tra calciatori e tifosi. Scene vergognose davanti lo sguardo attonito di migliaia di tifosi.